Dopo Elbitz Live e l'accordo tra Pininfarina MT ed Elbitz che rivoluzionerà il monopattino per il consumer, eccoci qua ospiti di un nuovo verticale, Elbitz Kitchen. Elbitz Kitchen è la più grande ghost kitchen internazionale, ma non sarà l'unica, perché il nostro obiettivo è quello di aprirne diverse nei prossimi anni e dare la possibilità in tutte le città dove Elbitz è presente non solo di usare la micromobilità, l'entertainment, ma anche di utilizzare Elbitz per il delivery del food. La visione è quella che Elbitz possa diventare una super app, una super app dove è possibile fare di tutto, dalla micromobilità all'entertainment passando per il delivery. Queste saranno le novità che vedrete nei prossimi anni, il tutto con una grande attenzione all'ambiente e alla sostenibilità. È tutto quello che vedete elettrico, dal delivery alle cucine che sono alle mie spalle. Elbitz Kitchen è questo, è un nuovo capitolo come scritto prima, di un settore che siamo stati in grado di rinnovare grazie a una visione nuova, fatta con gusto. We decided to offer a curato selection of a few top restaurants that we have brought together under one roof in our own fully controlled custom built smart kitchen. The kitchen itself we covered with hundreds of cloud-based sensors and IOTs and the result is a journey that help us controls down to the smallest detail. Puoi ordinare pizza, burger, insalate, poke, sushi e gelato. Saremo noi a portarti quello che hai ordinato in un'unica app contemporaneamente in un'unica transazione con un'unica ordine, con un'unica consegna. Grazie all'innovativo box termico il tuo ordine non subirà alcun danno durante il trasporto e manterrà la giusta temperatura fino alla consegna. Noi di Elviz Kitchen non vogliamo che il tuo sia un semplice pranzo o una semplice cena, ma un nuovo modo di affrontare l'esperienza del delivery. Non ho mai nascosto il mio orgoglio di essere italiano e non a caso siamo partiti proprio qui, da Milano, dove abbiamo realizzato la prima Elviz Kitchen che darà tantissimi posti di lavoro, ma non solo, sarà un modello da seguire in tutto il mondo. L'idea è quella di avere una Elviz Kitchen in ogni città dove Elviz è presente. Dunque vi aspetto su Elviz, dove è possibile prendere un monopattino per muovervi in città, guardare una partita, pagare l'assicurazione dell'auto e perché no ordinare del food.